È iniziato il 7 marzo scorso ed ormai è entrato nel vivo il nuovo progetto di Feder Consumatori Sicilia denominato Sportelli del consumatore finanziato dalla regione siciliana con fonti del Ministero dello Sviluppo Economico. L'iniziativa ha l'obiettivo di attivare una rete di quattro sportelli ubicati a Palermo, a Niscemi, Pietra Persia e Paternò per offrire assistenza qualificata e gratuita ai consumatori utenti. Il cittadino potrà rivolgersi per avere informazioni e supporto in merito a tutte le questioni che attengono all'esercizio dei suoi diritti previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore utente. Tutti gli sportelli garantiranno ai consumatori per la durata di 18 mesi un servizio settimanale di 18 ore distribuiti in tre giorni. L'assistenza sarà offerta sia in presenza, presso gli sportelli fisici, sia a distanza attraverso gli ormai più che rodati canali di comunicazione telematica, telefono, email, chat, social media, videoconferenza. Verranno inoltre realizzati e distribuiti materiali divulgativi e questionari e saranno organizzati eventi pubblici sui diritti dei consumatori.